il bayern vince soffrendo grande mario l'uomo in più ma quanti gol ha fatto addirittura un gol di mario d'andrea l'uomo in più di questa squadra all'ultimo minuto è sceso in campo ha fatto la differenza qualche parola questo bayern è forte a cosa punta non è quello dell'anno scorso ma giocatori come come te che a volte possono dare qualcosa in più stasera stasera ho visto una storia molto più tranquilla una storia molto più tranquilla in campo dovuto anche al fatto che c'eri tu quindi hai dato più calma alla squadra un po più di tranquillità sì sì c'è bisogno di un uomo che dirà un po diciamo di ogni tanto capite che qualcuno preso dalla ferie del momento l'importante l'ho vinto portate a chi dedichi questa vittoria tutta la squadra tutta la squadra anche che gli assenti che oggi si è in più partite non sono venuti esatto differenze del capitano sempre sempre il campo insieme al presidente ormai è diventato una pedina importante stasera due pali una parola a chi dedica questa vittoria a chi dedica questa vittoria a questa vittoria la dedico a marco di nolfi spero di una rivincita ti sto aspettando nel cuore e c'è solo capitano ed è Matteo di nolfi stasera ha fatto vedere che anche un ottimo comportamento anche tra i pali può dare e anche due gol eh due gol tra l'altro una grande prestazione una parola anche a andato da fuori che è stato sconfitto da un grande uomo ci ha visto in difficoltà è un signore ha dato il team out perché ci ha visto in difficoltà non avendo nessun sostituto che poteva sostituire claudio e poi c'è fatto male e poi grazie anche lo ci sarà anche il bel monaco boruzzi a due partita dura la scala di passetta solo passette con riscola di passettato riscola la giocherà la giocchia la partita ma le passette le fate voi è già incendio se non li faccio l'amore sul campo noi Ricordalo, mercoledì ci sono qui due protagonisti della super sfida di mercoledì, mercoledì in campo, il massimo per play ci sarà, e chiunque rigerà chi dedica la vittoria? sempre Matteo Adinolfo, c'è solo un capitano, ricordatelo Marco, è quello, è Matteo Adinolfo Siamo tutti, l'uomo in più di questa squadra di stasera, non ce la facevi, l'uomo in più è Mario Lo tiene di fronte a fianza, grande uomo, grande giocatore, grande trofeo check, grande Michele Priscico, grande Marco Adinolfo, la dedico alla mia ragazza Giambalo sta qui, questi giocatori che non sono venuti stanno abbandonando, come mai? No, siamo noi che non li vogliamo più, li abbiamo cacciati, allora il primo è Alessandro Nappi, il secondo è... Ma era squalificato Nappi Ah, allora il primo è Vincenzo Meglio che penso sostituiremo con un giocatore dell'Inter Spino a Francesco, abbiamo sentito queste voci Spino a Francesco, abbiamo idea e abbiamo intenzione anche di acquistare Massimuccio, amico di grandi viaggi L'inter, acquisti di peso Questa Inter nemica, presidente, come mai questa Inter nemica? C'è l'Inter? L'Inter di Marco Adinolfo, abbiamo fatto due acquisti Oh, molto! Spino intanto c'è... Stavolta un amico? Sempre il presidente Ti conviene Tra l'altro il numero, il stesso numero Il numero 11 Sesto numero, giriamoci Sesto numero E qui intanto arrivano anche il Giappolo Castese, presidente, giocatore della Roma, il Fortirone Fortirone, qui sono il team manager Buonasera Qui c'è Michele Vistoia In un'ultima dichiarazione Marco Adinolfi ha preso due suoi giocatori Te lo dico davanti, c'è solo un capitano, inquadra, inquadra, inquadra Che non ha fatto storie, ha giocato Un ringraziamento, eh A Mr. Poloni Tanto ha perso ancora però con un'onore È un signore, è un signore Mr. Poloni Solo quando c'è Machi in campo fa storie Che ha saputo cogliere le mie parole In campo l'ho visto Comportamento 10 Dalla prossima Dalla prossima Posso cercare la mia faccia solo per raffregolare Ma non per mettere i nostri Tu sei un bagliaccio Dando due acquisti dell'Inter Che non hanno giocato nel classico Giocheranno con Raffaele Guarega La prossima Massimo No, la prossima no No, la prossima no La prossima te le vuoi portare Te le faccio portare Michele Priscolo No, Michele Priscolo Spina e Massimuccio Sono i tuoi Va bene Faremo diventare dei campioni Il mercato questo Ti ha punti e vuoi metterlo Puntiamo sui giovani Chiudiamo Puntiamo sui giovani Signor Puto Puntiamo sui giovani